Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del paese, sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quelle che professo, che ho ripetuto nel mio comunicato, criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti. Vicino al mio pensiero è il commento di Wolfram Munchao, che nel suo commento sul Financial Times analizza come deve essere l'euro per non subire la dominanza mondiale del dollaro e della geopolitica degli Stati Uniti, affermando che la moneta europea è stata mal costruita per colpa della miopia dei tedeschi. La Germania impedisce che l'euro divenga come il dollaro una parte essenziale della politica estera. Purtroppo, egli aggiunge, il dollaro ha perso questa caratteristica, l'euro non è in condizione di rimpiazzarlo o quantomeno svolgere un ruolo parallelo e di conseguenza siamo nel caos delle relazioni economiche internazionali. Queste volgono verso il protezionismo nazionalistico, non certo foriero di stabilità politica, sociale ed economica. Il 28 e 29 giugno si trarà un incontro importante tra capi di Stato e Bruxelles, chi rappresenterà le istanze del popolo italiano. Non potrà andarci Mattarella, né può farlo Cotterelli. Se non avesse avuto veti inaccettabili perché infondati, il governo Conte avrebbe potuto contare sul sostegno di Macron, così incanalando le reazioni scomposte che provengono dall'interno di tutti indistintamente i paesi membri europei verso decisioni che aiutino l'Italia a uscire dalla china verso cui è stata spinta. Munchau giustamente afferma che teme che non vi sia un sostegno politico del nord Europa e quindi non ci resta che patire gli effetti del protezionismo e dell'instabilità sociale. Si tratta di decidere se gli europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine dell'Unione Europea o chi, come me, ne chiede la riforma per salvare gli obiettivi che si era prefissi.